Ciao a tutte, eccomi tornata finalmente con l'album 12 di Vrochet. Sono in ritardo di un giorno perché ieri non ho proprio avuto tempo, neanche nei giorni prima, perché il mio bambino è iniziato la scuola, è andato alle scuole medie e quindi insomma compagni nuove, mamme nuove con cui parlare, mi perdo un po' via insomma durante la giornata. Però fidelmente eccomi qua. Allora, questa è la copertina, l'album ho già detto è il numero 12 che è valido da ieri, 14 settembre, sarà valido fino al 4 di ottobre. Come vedete qua subito abbiamo un prodotto che è una novità che sono le nuove tinte labbra. Scusate, oggi ho anche una voce un po' bassa perché con i primi freddi a me la gola mi fa brutti scherzi. Allora, sulla copertina interna abbiamo sempre il sommario e sono riepilogate le tre novità di quest'album, a parte la tinta labbra che è appunto sul davanti e qui abbiamo subito il primo, la prima cosa interessante, cioè il regalo che si può ricevere. Questa bellissima bustina dorata per i prodotti di macchiage acquistando per 20 euro di prodotti di make up appunto, da pagina 4 a pagina 27. E abbiamo subito in apertura le nuove tinte labbra, vediamo un po' di leggere un pochino, 12 ore di colore puro, sono con olio di camellia rigenerante, sono effetto matt a lunga tenuta. Andiamo un po' a leggere. All'olio di camellia rigenerante, rossetto liquido dalla texture fluida e confortevole, veste le labbra di un colore matt ultra pigmentato. Guardate che bello, la modella indossa il numero 107, che sarebbe questo qua, qui ho il riflesso del lampadario, ahimè. E queste sono tutte le tinte, dai nude, dai malva, ai rosa, ai rossi. E sono in offerta lancio a 14,95 euro. Devo dire che i trucchi di brochet hanno un prezzo abbastanza altino, secondo me. Soprattutto le novità magari potrebbero fare dei prezzi un pochino più bassi, in modo tale che uno si può un po' più avvicinare. Comunque io ne ho presa una perché ho già fatto l'ordine e poi ve la mostrerò appunto quando arriverà il pacco. Poi continuando abbiamo tutti gli altri prodotti di make-up, qui abbiamo i rossetti, abbiamo il famoso primer labbra opacizzante, il rossetto gran rouge, il gloss, il matitone glossi. Qui abbiamo il rouge vertige con tutte le varie tonalità nel perlato, satinato e brillante. Poi come sapete tutti i prodotti, non sono stata a leggerlo, però sono tutti sempre qua. Vedete, no parabeni, no oli minerali, sempre sono il più naturale possibile. Non parliamo di prodotti bio, cioè di prodotti completamente naturali, però con una grandissima percentuale appunto di prodotti naturali contenuti. E soprattutto non c'è l'inci comunque sono sempre molto buoni. Io ragazze non me ne intendo, però quando sento le ragazze appunto che se ne intendono di queste cose, il rosset ha degli inci molto buoni su quasi tutti i prodotti. Qui abbiamo poi i correttori, i vari tipi di fondotinta, la cipria, tutto è un pochino scontato, però non tantissimo insomma. Poi anche qua se vi interessa sapere qualcosa in particolare mi mettete un commento. Qui abbiamo gli ombretti e tutti questi prodotti di macchiage partecipano all'offerta che con 20 euro di spesa si potrà avere la trousse dorata. Qui abbiamo le matite, le colorate per le occhi, qui quelle waterproof anche, il mascara e qua gli smalti. Ho anche preso, che non ho mai preso questo qua, l'SS ritocchi e volevo provare poi anche qua, magari lo proverò anche in diretta in un video così vediamo se funziona effettivamente. Dovrebbe togliere la sbeccatura nello smalto, quando si forma appunto una sbeccatura. Ecco qui con questa pagina, con questi smalti finisce la promozione delle 20 euro per avere la trousse. Qui abbiamo poi dei prodotti di accessori e qua abbiamo un'altra novità, anche questa l'ho comprata, ultimamente mi attirano molto le novità di Brochet, è la sleeping care, cioè la crema da notte di nuova generazione. Come vedete è una formula innovativa, no siliconi, coloranti, oli minerali e parabeni. E questa crema è stata fatta soprattutto per chi, io ho assistito a un video della mia responsabile di zona, per chi non ama le creme da notte grasse, perché tendenzialmente le creme da notte antirughe tendono ad essere un pochino troppo occlusive, occludono i pori, danno fastidio. Infatti io sinceramente spesso non le uso, perché mi alza al mattino e mi sembra di avere il viso sudatissimo, comunque tipo come se avessi messo dell'olio sul viso. E tendenzialmente per questo non uso quasi mai le creme notte, ma metto la crema giorno anche di notte. Invece Brochet ha studiato questa nuova metodologia per fare delle creme più fluide, saranno presentate anche poi per quanto riguarda le altre linee e ha incominciato con questa, che è la linea appunto, quella anche luminosità per le pelli un pochino più giovani, dai 30 ai 40 anni. E come vedete dice notte dopo notte, rigenera la pelle, riduce le rughe, distende i tratti e ridona al viso la naturale luminosità. Crema ricostituente allo stesso tempo leggera, non occlusiva, lascia respirare la pelle durante la notte. È in offerta lancio a 15,95 euro, poi costerà 19,95 euro. Qui spiega un po' cosa fanno appunto i laboratori Brochet nella ricerca di questa tipologia di creme. E anche questa l'ho presa, poi vi farò appunto sapere come mi trovo. Qua poi abbiamo tutti i prodotti delle varie linee anti rughe. Qua la parte lifting, la parte anti age global, rich cream. Qui c'è qualche sconticino non eccessivo. E qua abbiamo un'altra novità dove ci soffermiamo, che è la crema detergente delicata. No solfati, no alcol, no siliconi, no coloranti e no parabeni. È in offerta lancio a 7,95 euro, dice di applicare questa crema sul viso asciutto e poi di risciacquarlo con acqua. Non so sinceramente se fa la schiuma, perché io non l'ho ancora provato. Non mi ricordo neanche se l'ho ordinato questo, vi devo dire la verità. Nell'indecisione non so cosa ho fatto. Comunque appena sentirò magari anche sul gruppo qualche ragazza che l'ha provato, eccetera, vi faccio sapere. Qui abbiamo poi dei set composti ad esempio dalla crema detergente e l'acqua micellare a 12,95 euro. Qui abbiamo gli altri prodotti della linea Sensitive Vegetal. Qui abbiamo la linea Hydra Vegetal che ripropone il gel detergente freschezza, quello da 125 ml, il tubicino, con l'acqua micellare 8,95 euro. Qua i prodotti sempre della linea Hydra Vegetal e qui la linea Sebo Vegetal a 9,95 euro, gel detergente purificante con l'acqua micellare. Questa è la linea Pur Vegetal, set detersione, gel purificante e l'ozione purificante 9,95 euro. Qui abbiamo i tre prodotti alla camomilla che abbiamo visto sono stati lanciati nello scorso album. Latte e tonico, gel detergente e olio micellare detergente che serve anche per struccare il trucco waterproof. Si ha anche sugli occhi, quindi si lava tutto il viso. Qua poi abbiamo i balsami labbra, la BB cream, i prodotti per i piedi, qui abbiamo i prodotti per il corpo, le varie creme che sono state lanciate nelle confezioni più grandi col dispenser, gli integratori. Qui abbiamo ancora la linea Monoi, col dopo sole e un solare ancora in linea per chi è ancora in vacanza. E qua abbiamo i profumi, anche qua c'è un pochino di sconto su alcuni. Qui profumi Uomo, linea Uomo. E qui abbiamo il trattamento dei capelli in pillole, scontato a 14,95 euro invece di 16,95 euro, quindi non è neanche scontatissimo. C'è lo shampoo, le fiale anticaduta, lo presentano un pochino così in prima pagina, perché adesso come sapete a settembre purtroppo si tende un pochino a perdere i capelli e quindi magari qualcuno vuole rinforzare un attimino può fare questa fura insomma per aiutare. Qui abbiamo tutti i prodotti per i capelli. Io ho preso tutto, per ora ho provato soltanto lo spray, quello lucidante, che è veramente buono e lascia tanto i capelli lucidi. Però magari vi farò un video a parte. E sto provando questo siero fortificante. Mi trovo bene perché non mi appesantisce i capelli. Vi devo dire la verità, sono rimasta davvero contenta perché di solito quando applicavo questi sieri in crema, è una crema fluida, però mi lasciava i capelli sempre poi pesanti. E mi li appiattiva tanto, non mi piaceva. Invece per il momento mi sto trovando molto bene. Poi sapete che è stato lanciato il trattamento notte, che è una crema proprio di bellezza, che si applica la sera, si dorme e al mattino si spazzolano i capelli e via. Serve proprio come se fosse una crema di bellezza, che i capelli li assorbono e rimangono più belli. Intanto sto sfogliando, qui abbiamo i vari shampoo, i vari trattamenti. E altra novità sono le creme mani, che sono state lanciate in quattro profumazioni, olive petite green, mango e coriandolo, noce di cocco e vaniglia bourbonna. Sono in offerta lancio a 2,95 euro, sono tubicini da 30 ml. L'hanno fatti per portarli anche in borsetta, un po' più piccolini, molto carini, con burro di karité eco-solidale e vedete più del 95% di ingredienti di odigine naturale. Quello che vi dicevo prima, qui le linee bagno, le plasir nature, qua le varie linee, vado un pochino veloce perché vedo che i minuti passano. e qui basta, abbiamo come nella copertina nel retro, fa il pieno di energia con due set, non mi viene la... oh mamma mia, i set bagno doccia, estratto di albicocca bio e oli essenziali di rosmarino. È scritto qua in piccolino, non lo vedevo. E hanno fatto il set con il bagno doccia e l'acqua profumata, 9,95 euro. E il set bagno doccia e gel idratante, 7,95 euro, perché questi sono in edizione limitata e quindi probabilmente devono finire le scorte e hanno fatto questa promozione. Bene, questo è tutto per quanto riguarda l'album 12, che è bellissimo. Se volete sempre maggiori informazioni sui prodotti, chiedetemelo tramite un messaggio. Se volete per caso informazioni relativamente a diventare clienti privilegiata, a entrare in Yves Rocher, chiedetemi sempre anche quello tramite messaggio e vi spiego un pochino come funziona. Ciao!